Anticipazioni Tempesta d'Amore, sabato 30 maggio 2020. Bela fa una confessione shock a Nadia. Dice che il frutteto dei Krumbleg è andato distrutto perché qualcuno ha gettato per invidia una grande quantità di pesticidi sugli alberi. Tim è con loro e ha una forte reazione. Nadia si rende conto che è stato lui a compiere quella perfidazione. E quando i due restano da soli lo convince a confessare tutto a Franzi. La loro storia d'amore non può basarsi su una bugia così grande. Stringendo i denti Christophe deve ammettere che Annabel ha manipolato e ricattato l'ingenuo Dr. Borg nonostante i suoi avvertimenti. Grazie a tutti.